Gli attacchi hacking sono sempre più sofisticati. Quali sono le regole da tenere? Innanzitutto bisogna ricordare che la sicurezza informatica è responsabilità di tutti. Quindi si richiede ai dipendenti una collaborazione attiva per proteggere l'azienda da quelli che possono essere gli attacchi cyber. Un attacco cyber tipicamente si concretizza sfruttando le vulnerabilità dei sistemi. Quindi è fondamentale una strategia efficace di aggiornamento degli stessi. L'azienda ovviamente ha diversi compiti. Uno può essere quello sicuramente di sensibilizzare il personale educandolo sull'importanza degli aggiornamenti e sui rischi di una mancata adozione delle misure di sicurezza. Un altro è quello di implementare politiche chiare riguardanti gli aggiornamenti e far rispettare le regole a tutti. Poi c'è quello di verificare anche regolarmente lo stato degli aggiornamenti e di mettere in campo delle misure nel caso in cui trovi delle lacune. Capite bene però che se non c'è collaborazione da parte di tutti i dipendenti tutte le misure che l'azienda può mettere in campo vengono vanificate e quindi si sarà sempre comunque esposti a delle minacce.